ogni volta è una grande emozione ascoltare questa canzone perché poi segui attentamente il testo capisci in fretta di cosa si tratta e se non ti viene la lacrimuccia vuol dire che hai veramente un cuore di pietra questa è ricordi una delle nuove canzoni dei pinguini tattici nucleari pensate per la sesta settimana consecutiva al primo posto nella classifica di EO1 che per chi non lo sapesse è la classifica dell'air play radiofonico nazionale e i pinguini tattici nucleari sono qui in diretta con noi grazie ragazzi ci sono tutti davvero così tante persone in studio forse non eravamo mai state quindi salutiamo Riccardo Nicola Lorenzo Simone Matteo e pure Elio grazie intanto per essere qui con noi è un piacere chiaramente grazie di averci voluto ragazzi come state bene è un frullatore questi ultimi giorni stiamo facendo in store incontri però siamo felicissimi non poteva andare meglio di così hai anticipato prima sesta settimana consecutiva classifiche di qua di là siamo felicissimi senti ma gli stadi sold out a Milano e Roma ma quando avete appreso vi siete guardati e avete detto ma è fantastico immagino non ci si credeva no no assolutamente no non ci credevamo non era neanche non era neanche nelle nostre aspettative riuscire a riempirlo così presto infatti pensavamo sì adesso su Milano dobbiamo fare un sacco di cose che poi non abbiamo fatto perché si è riempito prima che pensate ma una domandina sciocchina è venuta a voi l'idea di fare gli stadi anche solo di partire con farne due e non due stadi a caso perché San Siro e l'Olimpico voglio dire sono importanti no? guarda noi non pensavamo neanche di poter provare quest'impresa una certa abbiamo parlato con il nostro manager e il nostro promoter e ci hanno detto guardate che i dati ci indicano che è possibile e quindi sai i dati noi da pragmatici può fare e quindi abbiamo detto proviamoci alla conquista di Milano voi che venite dalla provincia bergamasca no provincia o città qualcuno di voi si è già trasferito il cittadino unico qui ecco c'è un solo cittadino hai visto come è arrivato in freddo sto aspettando la classica domanda bergamo alto bergamo bassa e io ho la risposta pronta bergamo bassa perfetto benissimo gli altri sono di provincia però comunque lui è Simone l'unico cittadino ecco vi siete trasferiti spostati a Milano in questo periodo immagino che lavorerete tanto là o preferite la provincia e perché? ma io preferisco rimanere io preferisco rimanere lì banalmente anche se lavoriamo molto a Milano l'unico che si è spostato di fatto è Lorenzo che è andato a vivere nel cremasco per amore per amore ecco che è un grande classico l'unica vera ragione per cui vale la pena spostarsi esattamente ragazzi altra domandina così per conoscerci meglio perché vi confesso io e la Clari fino a Sanremo del 2020 non è che avessimo tante informazioni sui pinguini tattici nucleari sapete come sapevamo di voi? dai ragazzi che ogni tanto incontravamo che venivano a trovarci in radio eccetera che ci parlavano spesso di voi e quindi è stato da quel momento che insomma ci siamo avvicinati alla vostra storia era il 2018 vennero diverse scolaresche 13, 14, 15 anni ma voi che musica ascoltate? i pinguini tattici nucleari i pinguini tattici nucleari noi ci siamo guardati i pinguini tattici allora da lì abbiamo iniziato a documentarci abbiate pietà di noi però poi ci siamo appassionati della vostra storia ora vi vediamo tutti e sei schierati sorridenti apparentemente andate d'accordo insomma voglio dire siete un gruppo democratico o c'è qualcuno che comanda e gli altri deve essere complicato in sei perché in sei se posso rispondere io che sono Nicola andiamo molto d'accordo perché abbiamo questa caratteristica di essere molto autoironici e anche diciamo di tirarci matti detto proprio così in parole povere ci piace molto scherzare su noi stessi ci sono tante cose che facciamo soprattutto in questi ultimi mesi stiamo facendo tantissime parole crociate che è una roba che ci unisce che unisce esatto fa anche tanta cultura chi è più bravo? allora il più bravo è palesemente l'io che non ha parlato finora è di qualcosa sono bravo fate tutti le parole crociate ragazzi tutte quelle che potete sono l'allenamento per la mente migliore del mondo ma tu fai quelle facilitate? no 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 partiamo dal bar te zaghi in su quindi facciamo anche schema libero incroci obbligati cornici concentri punto forte suo sono la cucina e la cultura greca e romana ma che bello è incredibile un saluto a tutti quelli del liceo classico bravo a tutti i secchioni un po' i nerd eri molto bravo a scuola abbastanza bravo però ho fatto il liceo classico poi ho studiato lettere quindi è proprio il mio mondo sono le mie cose ma che meraviglia quindi sei quello con la cultura generale più vasta che magari umanistica attenzione zero e chi è il matematico? un po' io un po' boot sull'economia boot e invece sulla scienza tipo biologia così paso molto paso sì mi piace interessarmi biologia astronomia non so niente in realtà però mi interesso qualcuno andava benissimo a scuola di voi confessate il momento no c'è chi andava malissimo beh l'onestà apprezziamo diciamo che no regalo malissimo io non ci volevo aggiare andavo bene in inglese andavo bene in italiano matematica poi c'erano le altre materie informatica molto bene matematica un po' meno perfetto ragazzi la vostra storia comincia presto perché parte nel 2010 voi eravate adolescenti in buona sostanza ora i genitori nel momento in cui il figlio lo vedi con tanto entusiasmo lanciarsi con la sua band e fare le cose no vi hanno in un certo senso appoggiato hanno cercato di farvi capire quali fossero i pericoli ai quali stavate inconsciamente andando incontro è vero oppure siete stati osteggiati ma io avevo avevo questo grande idolo john petrucci che suonava nei dream theater era una band metal e volevo comprare la sua chitarra quella proprio sua e ricordo che costava un po' mio padre me la comprò senza problemi mia mamma invece iniziò a dire già da lì avevo penso 14-15 anni ma non è che poi ci costerà un sacco sta passione e quindi lì però iniziai anche a dire adesso voglio guadagnare con la musica non far più spendere i miei genitori e dato che decisi questa cosa mi diedero sempre ragione cioè nel senso basta che non ci chiedi niente e vai per la tua strada ce ne sono molti invece che si trovano i genitori che dicono ma trovati un lavoro vero lo dicevano anche a noi si guarda che poi fare musicista rischi di fare la fame esatto tuttora ce lo dicono ah ecco anche adesso che vi siete lanciati negli stadi eh no adesso lo capiscono però penso che per tutti ci sia stata qualche difficoltà ragazzi i pinguini tattici nucleari questa mattina sono venuti a trovarci per il semplice fatto che venerdì scorso è uscito il loro nuovo album che si intitola fake news una domandina proprio ci ho pensato tantissimo come mai fake news mi rendo conto di farvi una domanda molto originale però ma un po' perché a un certo punto l'estate scorsa si è parlato di un nostro eventuale scioglimento e non era vero non sappiamo neanche bene da dove sia partita questa cosa qualcuno che vi vuole male esatto uno lo scrive uno lo riprende e però ci ha fatto male anche perché una notizia del genere che non fa male a nessuno perché è una band che si lascia voglio dire forse per i fan e per i musicisti stessi a noi ha un po' turbato perché siamo un gruppo unito da una vita e ci siamo detti cavolo non siamo riusciti a dimostrare quanto siamo uniti in questi anni e quindi appunto ci ha segnato talmente tanto che abbiamo voluto scrivere appunto musica vera in risposta a notizie false bravi bravissimi allora abbiamo parlato di Kiko Mori nella prima parte del programma credo sia il momento di ascoltare la canzone dall'album fake news dei pinguini tattici nucleari questa mattina ospiti in diretta nei nostri studi che si chiama proprio così i Kiko Mori su Radio Bruno i Kiko Mori dunque da fake news l'ultimo album dei pinguini tattici nucleari i Kiko Mori ne abbiamo parlato nella prima parte anche noi approfittando della vostra presenza ora oggi trovando questa parola che fa da unione fa riferimento evidentemente al periodo della pandemia insomma fa riferimento alla solitudine che in quel periodo lì si è particolarmente manifestata in tutta la sua drammaticità si è una metafora come avete detto bene voi l'avete spiegata prima sono questi ragazzi soprattutto giapponesi ma poi in tutto il mondo che decidono di ritirarsi a vita privata e non parlare più con nessuno in pandemia ci siamo sentiti così noi siamo venuti qui a Radio Bruno poco prima del covid e di tutto quello che è esploso e quando nei primi tempi soprattutto eravamo in lockdown pesante ripensavamo a questi bei momenti di condivisione la musica deve essere condivisione comunità e stare insieme quindi quello è stato proprio agli antipodi di cosa significa per noi la musica una non vita nel 2020 hai detto prima da un certo punto di vista eravate appena partiti con tutta questa forza propulsiva e vi siete dovuti fermare immediatamente sì poi per fortuna è andata bene lo stesso ma non possiamo dire altrettanto per tanti altri artisti cioè quello è stato un periodo omicidiale perché tanti poi vivono per salire su un palco e lì è stato quasi un anno rubato nel senso che il tempo togli pure il quasi togli pure il quasi perché voglio dire arrivate terzi al festival di Sanremo quindi la popolarità che a quel punto vi arriva addosso come un uragano pronti per far sentire la musica a tutte le persone che a quel punto sono incuriosite invece siete costretti a stare a casina vostra come tutti noi insomma quindi sì siamo fortunati perché poi appunto adesso ci sono gli stadi se pensiamo ad ora è andato tutto bene nello stesso però effettivamente è stato incredibile non ci potevamo credere ti hanno aspettato ragazzi altro che ti hanno aspettato c'è chi dice che l'attesa del piacere sia stata stessa il piacere è vero l'attesa è stata veramente un po' too much però anche meno come si dice è sempre dato bene poi però non avete perso tempo tu hai scritto anche un libro io ho scritto un libro abbiamo lavorato tutti anche a progetti solisti perché un'altra cosa che non si dice tanto quando si è una band è che funziona solo se c'è posto per ogni singola identità lui ad esempio lorenzo fa le colonna sonore ma io faccio tante cose ho fatto una colonna sonora che forse hai visto di un film tu sei Elio diciamolo che ci sta ascoltando poi io ho diversi progetti di musica popolare suono anche la fisarmonica quindi faccio un lavoro di ricerca tromusicologica su registrazioni degli anni settanta e cose del genere e poi ho anche vista la mia passione per il mondo letterario alcuni progetti di reading e di spettacoli di letture bello sono un uomo molto variegato ma invece Lorenzo cosa fai di bello? no io mi sono dedicato a un album solista perché poi appunto come diceva Riccardo l'equilibrio che si trova in sé è anche avere la possibilità di cimentarsi anche in altre cose e quindi ho scritto un album più tendente al progressive mio solista per dire ma anche Boot ha un suo progetto io che sono Boot ho fatto anche io parecchie cose in questi anni ho un progetto solista di musica elettronica vado in giro spesso come DJ a suonare poi ho fatto anche io delle colonne sonore per degli spettacoli teatrali principalmente e un'altra cosa molto bella è che ho fatto degli incontri nelle scuole uno in bicocca e uno nelle scuole magari medie così per parlare del lavoro della musica del lavoratore dello spettacolo e una roba qui tengo parecchio ma bellissimo molto bello altri? dai sezione ritmica la dita no lui siamo sempre tanti purtroppo dobbiamo trovare tutti un po' il nostro posto allora io sono Matteo anch'io ho dei progetti paralleli ho un concerto questo sabato con un nuovo progetto Prog Funky in cui sono riuscito ad entrare sono molto contento tengo ancora un piede dentro una realtà che si chiama Drum Corp che praticamente è una cosa di tradizione americana che ci ha seguito anche quest'estate durante i palazzetti la Millennium Drum di Gold Corp e niente questo suoni un sacco suoni un sacco suoni un sacco abbiamo il bergamasco che sta là defilato io che sono Simone che sono il cittadino di prima sono un po' un prezzemolino come si suol dire e come dà fastidio so Lorenzo perché gli danno fastidio questi modi di dire quindi mi piace suonare il basso in tante altre realtà ho una band che fa musica dei Beatles negli ultimi anni mi sono lanciato anche nello studio del contrabbasso bello sì 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 tanta frustrazione ma poi tanta soddisfazione anche dopo la frustrazione come si fa a non voler bene a questi ragazzi vi conosciamo noi per la prima volta così da vicino la vostra semplicità la vostra genuinità io vi voglio già bene a tutti i vostri ragazzi normali guardate non è una sbiorinata perché poi a volte l'apparenza inganna ma in questo caso non credo e questi credo che siano semplicemente gli elementi che poi hanno fatto sì che voi abbiate mosso tutto questo interesse questo affetto nei confronti di così tanta gente di tutta l'età trasversale tra l'altro è l'interesse che c'è stato quando abbiamo annunciato il vostro arrivo qui da noi onorati una cosa vi chiedevo questa semplicità questa genuinità questo attaccamento alle cose semplici alla famiglia ai luoghi di nascita dove siete nati e cresciuti nel momento in cui si parte col tour che è successo anche l'estate scorsa un tour fra l'altro è andato benissimo un'altra volta cosa succede? la lontananza si fa sentire la mancanza delle persone delle cose delle abitudini oppure ci state facendo l'abitudine a girare? l'abitudine non ce la fai mai secondo me nel senso che un po' di mancanza c'è sempre quando finisci il concerto tutte le persone sono state lì sotto al palco a urlare le hai salutate hai fatto le foto torni a casa torni in albergo anzi e pensi a casa è chiaro che però la nostra vita deve essere anche fatta di spostamenti di viaggi forse Paso volevi dire tu che sei legato molto alla realtà assolutamente dicevo che appunto sì non è che ti abitui a un certo punto non è che ti pesa stare cioè non è che smetti di pesarti stare lontano dalle tue persone dalle persone che ami ma diciamo che lo fai per un periodo che sai essere limitato e lo fai per qualcosa che ami fare quindi diciamo che queste cose si controbilanciano poi sei molto contento di tornare a casa alla fine e poi sei molto contento quando hai tanta gente naturalmente che fa festa insieme a te vi spostate ancora con il furgoncino dentista croazia o nel frattempo avete fatto un progresso ma fai che abbiamo scoperto che è stato diciamo hanno tolto dentista croazia dal lato non c'è più e adesso non l'hanno demolito ma quasi perché aveva comunque già i suoi anni quando abbiamo iniziato e adesso avete le stanze singole in hotel sì anche se ogni tanto io vorrei tornare a dormire con Elio che è russa non sarebbe male ti manca però Elio non russa più lo diciamo a tutte le ragazze all'ascolto la situazione è molto migliorata no 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 russo ancora la mia ragazza può testimoniarlo russo e me ne vanto addirittura perché farne mistero è il momento di ascoltare un'altra canzone che è un altro dei grandi successi dei Pinguini Tattici Nucleari oggi ospiti qui a Radio Bruno la canzone si intitola Pastello Bianco ce l'ascoltiamo poi ci raccontiamo ancora qualcosa prima che ve ne inviate sulle storie d'amore andiamo un po' a fondo Pastello Bianco Pinguini Tattici Nucleari in diretta con noi negli studi di Radio Bruno questa mattina ben ritrovati e grazie ancora ragazzi grazie a voi è un onore sempre essere qui figurati per noi Pastello Bianco dicevi che non vi aspettavate avesse tanto successo è così? ma assolutamente no nel senso che quando l'abbiamo scritta era un pezzo come un altro chiaramente noi ci mettiamo l'anima in ogni cosa che facciamo quindi l'abbiamo scritta in tanto tempo pensandoci però non era un singolo l'ha decretato un po' la gente perché poi ci siamo resi conto dai feedback non quelli sonori ma i feedback di giudizi è che piaceva molto quindi l'abbiamo fatta singolo storie d'amore che finiscono e nei vostri testi è un tema che ricorre spesso chi è il più fortunato in amore e il più sfortunato? confessatelo a Radio Bruno ma quanti cavoli ci sono tutti non ce lo siamo mai chiesti però devo dire la verità penso che forse si possa giudicare una storia d'amore dalla longevità quindi forse la storia più lunga è la tua sì io ormai faccio nove anni con la mia compagna a gennaio che è quella per cui si è trasferito per amore esattamente mettendo insieme i tasselli è un sentimento forte assolutamente sì assolutamente sì tra l'altro siamo insieme da ben prima che con i pinguini le cose iniziassero ad andare bene e quindi c'è anche una dimensione un pizzico di gelosia un qualcosa che insomma abbia a che fare con questa improvvisa popolarità che ti ha travolto Giovane Lorenzo da parte di lei non no guarda sarebbe molto rock star dire di sì ma la verità è che no c'è molta fiducia reciproca quindi non c'è proprio gelosia ma chapeau grande bellezza comunque il fatto di stare insieme da prima perché così non hai il dubbio ma starà con me per la persona o per il personaggio che è una cosa che può attanagliare molte persone quando hanno successo si ritrovano improvvisamente ad avere tantissime donne attorno quando prima faticavano a uscire a prendere il caffè magari con una ragazza in certi periodi succede anche questo magari succede che qualcuno di voi acchiappa di più adesso rispetto a prima perché poi c'è anche questa cosa che è altrettanto è altrettanto che è che di voi io ho trovato una ragazza invece siamo insieme da quasi tre anni sai che noi non acchiappiamo molto siamo molto monogami e tendiamo a stare con una quindi se una ti si butta il collo tu dici no grazie ho già dato è capitato è capitato allora succede davvero voi siete degli UFO c'è stato un periodo in cui ho un po' più praticato quest'arte di andare in giro e mi sono reso conto che per me ma come per gli altri non funziona devi esserci un po' tagliato per essere latin lover per essere un tombeau de femme il talento è lui invece in questo il cittadino acqua che ora viene fuori in tutto il suo splendore attenzione attenzione ci ho provato anch'io per il primo periodo in cui ero nella band ma sono rimasto subito ingabbiato sei innamorato subito ingabbiato ingabbiato ciao Claudia positivamente nel senso che sta a indicare quanto in realtà non siamo latin lover ma appena conosciamo una ragazza poi ci si innamora chiaramente se ci si trova bene e io a un concerto a Bologna è uno di quelli che abbiamo fatto ho conosciuto la mia ragazza e tuttora sono assieme a lei quindi insomma vedi a Bologna a un concerto demolite tutti i luoghi comuni sesso, droga, rock and roll e tutto quanto voi siete normali e riuscite a trasmettere anche la sensazione di esservi vicini in qualche modo alle persone come voi che sono appunto ma forse è anche la normalità che ci permette di stare insieme secondo me cioè nel senso che è un gruppo di amici tante volte lo si trova spessissimo nei bar del paese o ovunque un gruppo di amici che è quello dagli anni 80 e io penso che per il momento almeno noi siamo sempre andati avanti così nella gioia nel dolore sembra un po' una canzone vi vogliamo così vi vogliamo così no, prima di chiudere dobbiamo ricordare questo tour ve l'abbiamo menzionato più volte un po' di striscio il primo tour negli stadi dei pinguini tattici nucleari che comincia il 7 di luglio a Venezia e poi mi fa due date a San Siro perché la prima data è esaurita in una manciata di ore come dicevamo e quindi c'è stato bisogno di una seconda data poi da San Siro si va a Firenze poi a Torino doppio appuntamento all'Olimpico perché anche qui di Roma perché anche qui la prima data è andata esaurita poi c'è Bari Messina e si finisce a Olbia e si va in Sardegna perché poi il 13 di agosto è una figata essere in Sardegna e chiudere e dopo ci si fa magari qualche giorno esatto siete pronti? siete mentalmente fisicamente? pronti non lo sai mai per una cosa del genere però siamo felicissimi e ci stiamo lavorando tantissimo adesso stiamo discutendo della scaletta in questi giorni proviamo sempre perché quella non la lasci mai come abitudine provare in sala prove è sempre giusto siamo semplicemente galvanizzati pronti lo vedremo quando saliamo sul palco ma speriamo di sì e pensiamo di sì vorremmo strapparvi una promessa tornerete qui a Radio Bruno? certo che sì evviva! tutti e sei tutti e sei tutti e sei è bello così grazie ragazzi grazie ai pinguini tattici nucleari di cuore grazie a voi va bene allora ci salutiamo con un'altra canzone perché non ci mancherebbe altro Giovani Wannabe che è un po' un inno alla felicità al desiderio di realizzarsi sì proprio a realizzarsi a trovare il proprio posto nel mondo i giovani sono eccellenti in questo ciao ci salutiamo con questo bellissimo messaggio ciao